Nicolò Licatta, giovedì si presenta questo libro Il re di Sicilia, che opera è? Dunque, innanzitutto è un romanzo che sa di giallo, quindi c'è una storia che si intreccia tra miti e leggente e poi è riconducibile alla nostra vita attuale, di attualità. Ha dei precisi riferimenti attraverso i quali invita il lettore a riflettere, quindi a stimolare anche l'attenzione su certi fatti accaduti, anche di cronaca giudiziaria, ma allo stesso tempo attira l'attenzione, vuole attire l'attenzione di un pubblico vasto che non è solo siciliano, ma soprattutto un pubblico che è un lettore che vive in altre regioni, in altri luoghi e che sicuramente, mettendo in evidenza il titolo, quindi il re di Sicilia, la Sicilia, non si fa altro che rispolverare tutto ciò che noi abbiamo, i nostri tesori, le nostre scoperte, i nostri siti archeologici, quindi in questo romanzo che è un concentrato, posso definirlo un concentrato della Sicilia, un buon concentrato di forte sapore letterario. E chi lo legge, chi ha modo di leggerlo, potrà rendersi conto che effettivamente c'è dentro molto della nostra civiltà, della nostra società, del nostro vivere. Ed è anche, ci sono dei contenuti tali che lanciano delle provocazioni, provocazioni a un invito a riflettere su quella che è anche la nostra vita attuale, sociale e politica. Infatti si parla anche di, si fa riferimento alle speculazioni edilizie negli ultimi 30 anni, negli ultimi 40 anni, con tutti i disastri ambientali che questo ha originato, ha causato. E quindi è un messaggio, è appunto uno stimolo a riflettere, a ridiscutere, a rivedere alcune cose. Ciò non togli che nel libro non si ha lo scopo di denigrare tutt'altro. C'è una sorta di autocritica, una autocritica, una riflessione, soprattutto da parte dei cittadini che vivono nella nostra terra e che quindi hanno in qualche maniera occasione di poter rivivere e ripercorrere la nostra terra. La presentazione, come detto, si terrà giovedì 4 settembre alle ore 19 nella Sala del Carmine. interverranno anche tre personalità, il professore Ecologio e Località, il professore Francesco Pira e Tano Messino. Sì, sicuramente per me è un grande onore, è un grande privilegio avere personaggi che nella cultura nostra, locale e al di là del locale, quindi hanno una grande competenza. Quindi sicuramente sarà un incontro interessante, una conversazione, una riflessione molto interessante, stimolante per chi vorrà partecipare. Invito tutti a partecipare e quindi anche a interagire, perché no? Quindi a essere anche parte attiva di questa iniziativa, diciamo, di questo libro. Quindi il Re di Sicilia, giovedì alle ore 19 nella Sala del Carmine, ultima opera di Nicolo Licata.